l'avete mai fatta una bella bisca di gamberi con zucchine e allora questo è il momento giusto per vedere come si fa seguite i consigli del leone vi faccio proprio a recreare proprio faccio proprio freedom goal voglio che sta pasta con gamberi bisca di gamberi e zucchine a fine romana però prima di vedere la ricetta sigla buongiorno il leone è sempre sul pezzo continuiamo a fare queste belle ricette con super dedica speciale allora partiamo prima con il nome della ricetta che oggi facciamo una bella linguina con bisca di gamberoni e zucchine una cosa proprio speciale oggi la dedica fa al mio amico di colonia viaggio da dio viaggio grazie di cuore per tutti i messaggi che mi ha inviato e grazie che ha invitato anche tanti amici nella mia pagina un bacio grande e goditi questa ricetta allora per fare questa bella bisca di gamberi con zucchine abbiamo bisogno di alcuni ingredienti che sono gamberi che ci interessano sia il carapace e sia quello che c'è all'interno il carapace praticamente tutto quello che è all'esterno del gambero non lo buttate quindi testa coda anche la parte centrale e la testa con una forbice tagliate gli occhi perché gli occhi hanno quella parte amare poi vi faccio vedere perché abbiamo bisogno naturalmente del gambero dentro pulito di budellino abbiamo bisogno di carota sedano e cipolla tagliata a pezzettini piccolini piccolini un cucchiaio di concentrato di pomodoro mezzo bicchiere di brandy un po' di ghiaccio questo serve per uno shock termico che ve lo faccio vedere un po' di acqua prezzemolo qualche pomodorino zucchina e linguina ma io concludiamo con amore cuore passione tanta umiltà chiesto non volete ascoltare a cominciare a fare i gamberi che io già tengo fama viaggio sei pronto? io sempre sul pezzo allora voi io partiamo prima dalla bische di gamberi sembra una cosa difficile ma credetemi seguite i miei consigli e la facciamo proprio in una maniera più facile possibile in una casseruola un po' di olio e ci mettete il trito di carote, sedano e cipolla mi raccomando tagliatele a pezzettini piccoli e possibilmente tutti uguali così hanno una cottura uniforme e si cuociono in maniera più veloce fateli rosolare per almeno 10 minuti vedete che poi diventano quasi la metà una volta che avete rosolato per bene 10 minuti le verdurine ci mettete le carcasse dei gamberi e con una spatola o con il cucchiaio o quello che avete schiacciate le teste questo passaggio è molto importante perché da lì devono uscire tutti i succhi e fate rosolare una decina di minuti ancora passate queste 10 minuti vedete che hanno cominciato a cacciare i succhi e tutto si sente già un odore esagerato sfumate di brandy anche questo passaggio è molto importante fate evaporare l'alcol questo è un altro passaggio fondamentale seguite questi consigli e farete un figurone una volta che avete fatto questo adesso entra in scena il ghiaccio il ghiaccio per fare lo shock termico questo è molto importante per far uscire alla fine un sapore straordinario si blocca la cottura iniziale e poi continua quando poi dopo ci aggiungiamo l'acqua adesso ci aggiungiamo sale concentrato di pomodoro mischiate il tutto lasciate cuocere almeno 40-50 secondi il tempo che si scioglie un po' il ghiaccio e poi mettete l'acqua adesso mettete il coperchio sopra e lasciate cuocere almeno 15 minuti a fiamma medio alta vedete mentre sta cominciando a cuocere la bisca adesso noi in una padella mettiamo un filo d'olio e ci vado a mettere un po' di zucchine io me ne sono tagliate a triangolini potete tagliare a quadrate a rotondine come voi volete come voi preferite le zucchine come consiglio fatele cuocere davvero pochissimo giusto una cinquantina di secondi a fiamma viva non è che devono stracuocere metteteci due pomodorini dentro salate quanto basta perché il sale serve sempre un po' di pepe se ce lo volete mettere fate spatellare ancora altri 40 secondi e poi ci mettete un po' di acqua va bene anche un po' di acqua senza sale perché tanto il sale voi già l'avete messo in padella allora adesso fate cuocere ancora altri 30-40 secondi e poi mettiamo la padella da una parte perché così poi dopo rimane bello caldo ma non stracuociano le zucchine nel frattempo la bisca vedete che bel colore che bel... a parte l'odore ragazzi prendete un bel mini peamer e frullate il tutto fin quando non esce insomma una crema un po' corposa così si può dire adesso munitevi di un passino a maglie strette strette e sotto una ciotolina adesso passatevi questa bisca nel passino e vedete che sotto fuori uscirà tutto il sugo ma uscirà un sugo davvero molto bello cremoso è davvero di un sapore molto intenso di gamberi quindi se siete amanti dei gamberi questa è proprio la ricetta che fa per voi io li adoro e quindi questa ricetta è fatta proprio apposta per me provate anche la stessa identica cosa magari con le teste e i carapaci dell'assice e viene una cosa proprio fenomenale adesso salate l'acqua calatevi la pasta e nella padella con le zucchine calatevi la bisca di gamberi fiamma medio alta e fate cominciare un po' a insaporire i due gusti zucchina e bisca di gamberi vedete che poi dopo si uniranno alla perfezione la pasta quando è ancora bella al dente cioè che vedete che è ancora giusto un po' piegata calatela nella padella con la bisca e fate risottare la pasta in padella con quella bisca cioè praticamente voi continuate a far cuocere la pasta in questo sugo vedete che poi si stringerà e la pasta naturalmente si cuocerà fino alla cottura che voi desiderate quando il sugo si sta incominciando a stringere mettete i gamberi a crudo a crudo perché il calore della pasta farà praticamente cuocere il gambero ma non lo farà stracuocere perché il gambero ragazzi lo sapete se stracuocere troppo diventa stropposo e non si riesce a mangiare un po' di prezzemolo il gambero in questo momento 30-40 secondi e già va bene di cottura che rimane bello succoso saltate un poco ragazzi e noi andiamo a impiattare wow biaggio biaggio frate a me questa è una piatta propria fenomenale proprio veramente adesso lo vado a assaggiare per te perché voglio dire è una cosa esagerata questa bisca di gamberoni mamma mia ma ragazzi cremosa al punto giusto saporitissima poi con le zucchine mamma mia mamma mia è fenomenale replicato in questa ricetta fatemi sapere se ti è piaciuta biaggio la ricetta è dedicata a te condividela sulla tua pagina sul tuo profilo mi raccomando fammi sapere se ti è piaciuta oggi è toccata a te domani già so forse a chi può toccare però sempre occhio alla mia pagina perché ogni giorno dedico una ricetta ad ognuno di voi bagliù grazie del vostro affetto seguite la mia pagina Luigi Scotti Scecchi Famiglia ciao bagliù alla prossima